Lavoro in una società di consulenza e formazione, SCS Azioni Nova S.p.A. e sono qualificata come impiegata. Svolgo questo lavoro dal 1998, sono entrata in azienda come centralinista e con le competenze acquisite nel tempo ho cambiato varie mansioni. Prima di entrare in SCS non facevo l'impiegata, ma la babysitter. Le mie mansioni sono di varia tipologia, attività di segreteria generale, segreteria personale del Presidente, supporto aria e risorse umane, ufficio gare d'appalto. Sono diplomata in tecnico dei servizi sociali, formazione non adeguata al mio ruolo, pertanto ho partecipato a corsi di formazione per imparare a rispondere ai bandi di gara in relazione all'attività dell'ufficio gare. Per quanto riguarda la segreteria e supporto ufficio personale, ho acquisito le competenze tramite colleghi. Sono assunta come dipendente a tempo indeterminato al secondo livello del contratto collettivo nazionale commercio, esattamente distribuzione cooperativa. Ho la fortuna di svolgere varie attività diverse tra loro, pertanto trovo questa caratteristica molto interessante. In particolare la partecipazione alle gare d'appalto, ogni volta con documentazione e progetti nuovi, è molto stimolante. Capita a volte che le attività da svolgere si sovrappongono e le scadenze provocano molto stress. Inoltre è difficile il rapporto con i colleghi. Ho una grande passione per i cani, mi piacerebbe gestire una struttura dove ospitare ed educare cani, magari con un piccolo bed and breakfast e o agriturismo. Sicuramente un lavoro dinamico, all'aria aperta e senza orari da rispettare. Sicuramente un lavoro dinamico, all'aria aperta e senza orari da rispettare. Sicuramente un lavoro dinamico, all'aria aperta e senza orari da rispettare.